Martedì sarebbero state quattro settimane dall'inizio della mia battaglia contro il coronavirus. Oggi però ho ricevuto la telefonata che tanto aspettavo e di cui tanto allo stesso tempo avevo paura che mi ha comunicato a essere guarito totalmente da covid-19. Il secondo tampone è andato bene, è stato negativo, ho vinto la mia battaglia, ho sconfitto questa merda e soprattutto l'ho sconfitto anche col vostro appoggio, con il vostro aiuto. E siete stati tutti fondamentali, dal primo all'ultimo anche se non sono riuscito a rispondere a tutti i messaggi mi avete fatto sempre compagnia, non mi avete mai fatto sentire solo, quindi io vi ringrazio per l'ennesima volta dal mio cuore e adesso voglio pensare soltanto che anche tutte le altre persone nella mia condizione che stanno lottando possano farcela perché un messaggio che sento veramente troppo poco anche quando accendo il telegiornale è che, dicevo è che sì, si muore, è vero, e si muore anche tanto perché ha fatto una strage questo virus ha ucciso una marea di gente, centinaia, ed è una cosa drammatica però fate anche presente la gente che guarisce, che vince la propria battaglia, che sopravvive date speranza a chi è ammalato, diamo di questa speranza detto questo vi saluto e vi ringrazio ancora di cuore